Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella vecchi dravoli, benvenuti qui sul canale dei GRAN Bella Ci mancano 3 partite e mancano esattamente... Il parente devono fare 3 vittorie Sì, 3 vittorie Se vogliamo salire in terza, se no una vittoria per salvarci Questo è proprio un dito al culo Sì, lo so, perché c'è stato dei pai e... Sì, voglio dire Questa era è caduta ... Però c'è la risata 3, quindi può essere... Boom Boom Filt' De Fút Sarebbe figli di puttana però C'è capisco pure battute in francesi, regà Mamma mia Sono veramente un'na persona Perché uno piacere è grande e benvenuti Eleri ospite Ma ringalu Ma non andate Ora sì Guarda la razza Guarda che soldi sto stupendo bravo grande mamma mia cazzone vedi la complicazione e c'è l'azione del gol mamma mia 1 a 0 1 a 0 Eden Hazard ma tu cazzo come hai fatto a arrivare la torre ma bravo coglione lascia i posti come tre giochi erano passati fuori la ma che sei scemo ma io sono nero non posso ma io sono nero ti vuoi nana 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 vabbè ma sti cazzo e poi se doveva i galliani non era non era quali c'erano quello che mi aspettiva sopra 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 tira cazzo quando cazzo lo dirà questo cazzo il cazzo non si tratta non si tratta non si tratta non lo vediamo i testi i 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 non ha mai fatto un giro senza riazione mai mamma mia c'è non cazzo tira non è vero fa pezzo del merito rischiare portata ho fatto un po' sono un'altra storia che si chiamava e palle chi è per raggi quello? con 2 rompista male mamma mia tranquillo non ti preoccupa VENZO DIO GRANDE uno dei mandereggio vai così lei va bene che cazzo fai David Luiz ho fatto troppo arresto David Luiz cosa? David Luiz sei n'è andato? si vittoria! wow incredibile va bene così, quindi facciamo subito un'altra partita al volo bella vecchi trapani siamo tornati con un episodio 181 e noi lo diciamo ecco la seconda partita lo diciamo sotto voce lo diciamo sotto voce quattro volte campioni del mondo comunque questa è la seconda partita di oggi è bella comunque ben tornati dopo il breve la breve interruzione che abbiamo avuto quindi lo diciamo sotto voce ma se facciamo questa vittoria il prossimo episodio si gioca per la promozione si si fabbio devi dire basta ma bene ora siamo entrati bene in partita bello Sanchez Sanchez mamma mia dispirato non ci posso credere non ci posso credere quello doveva segnare però là non è fuori gioco viti in mezzo oddio no ma quanto ci sta di male non ci posso credere che cazzo hai fatto qua no dai non ci posso credere che cazzo hai fatto qua no dai mamma mia sta mamma mia proprio troppo sta mamma mia cioè tutto a mezzo mica eh semplice poi l'osso l'uomo manco mamma mia com tu non ho l'opera vai capa notare check su, poorholes hai peggio parole il primo tiro ha fatto il primo tiro FORCOOL 2 QUANONS trainee DAI CASSIS! SIIIIIII He! ma puoi questoM Tools col pure la prende o col mie se ne va se ne va ojonzoage guardavela che c***o vael nostro ma porca mamma mia sa che stavo disconnesso attaccate attaccate e muco mi cazzo jolly si è sceso dai ci è meno male emergenza stamo a filo lui non sarà neanche perfettamente a fuoco no prego calcolate che stamo proprio in emergenza perchè il filo sta la oddio mamma mia check dai brutto motivo se vedo giro il sedento giro ma perchè la tercetta sempre la sempre ma guardate ma che culo di merda fuori 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 oh tantesimo eh via vai via grande grande sanchez te la nostra mamma mia ma adegu no non è fallo ma che cazzo fa scherzi ma può essere fallo quello ma dai guardate la sofferenza sull'angolo eh fischia fischia se si si e domani si andiamo a giocare la promozione uh daje 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 daje